Allora, per finire il primo tempo, poi facciamo un po' di coso. Vedremo, per chiudere il primo tempo, svelenza, vedremo ora due delle ballerine più esperte, la Sissi e la Giulia, interpretare una famiglia di favore di Sia, ed è una rispirata, di chiudere, alla favore di Sia della Genesiana e Madi Zicre, esegue proprio nel video clip di questa canzone. Sissi e Giulia, legate dalla passione per la danza, sia da una profonda amicizia, avevano da tempo il desiderio di ballare in un passo al due, e quest'anno la loro insegnante ha deciso di far avvelare questo desiderio. Anche Chandelier è una coreografia presentata alla Rassegna di Scuola di Danza, Ideal Tanzando. A voi, Chandelier. A voi, Chandelier. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti